Il Dipartimento di ES è l'unico Dipartimento di Ingegneria a sud di Salerno ad aver ottenuto dal Ministero della Ricerca Scientifica il certificato di Dipartimento di Eccellenza. E' una grande soddisfazione per noi soprattutto per la possibilità di comunicare ai nostri giovani che a Reggio Calabria si può studiare e ci si può specializzare ai più alti livelli. Da uno studio dell'Università di Stanford pubblicato in questi giorni ben 12 dei nostri docenti su 48 sono presenti nella graduatoria dei top 2% scienziati più influenti al mondo. Questo fa sì che noi riponiamo sui nostri corsi di studio tutta la nostra esperienza e tutta la capacità di formare giovani preparati pronti a cogliere tutte le sfide in Europa e nel mondo intero. I corsi di studio che noi eroghiamo sono in ambito Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni al triennale e nei due corsi magistrali uno in Elettrica ed Elettronica e uno in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni. Inoltre siamo presenti anche con un dottorato di ricerca Ingegneria di Informazione, terzo livello della formazione, in cui i nostri studenti possono formarsi ai più elevati livelli ed essere pronti a tutte le sfide più importanti dell'innovazione tecnologica in Europa.